La pressione sul Mediterraneo occidentale è in fase di graduale diminuzione, attivando un flusso di correnti umide e sciroccali in graduale intensificazione nei prossimi giorni. In Toscana, venerdì 18 ottobre, isolate e deboli piogge sulle zone di nord-ovest, in particolare sui rilievi, altrove parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio qualche precipitazione sparsa, anche a carattere di rovescio, potrà interessare anche il litorale centrale. Venti deboli di scirocco sulla costa, deboli variabili o assenti nelle zone interne, mari poco mossi, localmente mossi in serata a sud dell'Elba, temperature stazionarie. Sul territorio provinciale da nuvoloso fino a molto nuvoloso in serata, con piogge alternate a schiarite. A Lucche sulla Piana, temperatura minima 12, massima 22 gradi. A Castelnuovo-Garfagnane, zone montane, minima 9, massima 21. A Via Regge sul litorale, minima 14, massima 22 gradi. Sabato, e più in generale nel weekend, tempo perturbato, con piogge e temporali, temperature in diminuzione.